la formula 1 più veloce di sempre è l'obiettivo che si è posto il team bar onda che ha allestito un programma particolare con una sua normale monoposto di formula 1 per poter raggiungere il primato la squadra che ha seguito questo originale progetto si è trasferita sul lago salato a bonneri negli stati uniti palcoscenico ideale da molti anni dei record con qualsiasi tipo di propulsione di velocità sulla terra nel 2005 il team bar onda da quest'anno squadra ufficiale onda non è però riuscito nell'impresa di batteri 374 chilometri all'ora fatti segnale da quam pablo montoya con la mclaren mercedes durante i test del gran premio di formula 1 a monza le cattive condizioni atmosferiche non hanno consentito al pilota sudafricano alan van demmerwe di ottenere il primato che si era prefisso il team anglo nipponico la monoposto allestita per questo record non differiva in nessun particolare da quella normalmente utilizzata nei gran premi volendo il team ottenere l'eventuale record con una formula 1 conforme al regolamento la bar onda era soltanto equipaggiata con un paracadute frenante azionabile dal pilota in caso di pericolo in attesa di tentare nuovamente in record con condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli nel maggio del 2005 la bar onda ha effettuato dei test sulla lunga pista dell'aeroporto militare di mojave nel deserto californiano adottando una pinna fissa verticale al posto del tradizionale alettone posteriore la bar onda sempre guidata da alan van der merve ha raggiunto in un passaggio la velocità record di 415 chilometri all'ora che la renderebbe la formula 1 più veloce di sempre diciamo la renderebbe perché i record di velocità sono omologabili solo sul lago salato e quindi il record siglato venerdì 4 novembre 2005 resta solo una dimostrazione di ciò che potrebbe essere in grado di fare nel 2006 questa monoposto a bonneville nello juta il primo passo verso il record vero è già stato fatto il primo passo verso il nuovo sopra il rapporto di una dimensione che potrebbe essere in grado di Riuscire ad essere la Formula 1 più veloce di sempre È l'obiettivo che si è posto il Team Bar Honda, che ha allestito un programma particolare con una sua norma di 374 km all'ora, fatti segnare da Juan Pablo Montoya con la McLaren Mercedes durante i test del Gran Premio di Formula 1 a Monza. Le cattive condizioni atmosferiche non hanno consentito al pilota sudafricano Alan Van den Merve di ottenere il primato che si era prefisso il Team anglo-niponico. La monoposto allestita per questo record non differiva in quale monoposto di Formula 1. Per poter raggiungere il primato, la squadra che ha seguito questo originale progetto si è trasferita sul lago Salato a Bonnery, negli Stati Uniti, palcoscenico ideale da molti anni dei record, con qualsiasi tipo di propulsione, di velocità sulla terra. Nel 2005 il Team Bar Honda, da quest'anno squadra ufficiale Honda, non è però riuscito nell'impresa di... In attesa di tentare nuovamente il record con condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli, nel maggio del 2005 la Bar Honda ha effettuato dei test sulla lunga pista dell'aeroporto militare di Mojave nel deserto californiano. Nessun particolare, da quella normalmente utilizzata nei Gran Premi, volendo il Team ottenere l'eventuale record con una Formula 1 conforme al regolamento. La Bar Honda era soltanto equipaggiata con un paracadute frenante azionabile dal pilota in caso di pericolo, che ha allestito un programma particolare con una sua norma battery 374 km all'ora, fatti segnare da Juan Pablo Montoya, con la McLaren Mercedes durante i test del Gran Premio di Formula 1 a Monza. Le cattive condizioni atmosferiche non hanno consentito al pilota sudafricano Alan Van Den Merve di ottenere il primato che si era prefisso il Team anglo-nipponico. La monoposto allestita per questo record non differiva in quale monoposto di Formula 1. Per poter raggiungere il primato, la squadra che ha seguito questo originale progetto si è trasferita sul lago Salato a Bonnerin, negli Stati Uniti, palcoscenico ideale da molti anni dei record, con qualsiasi tipo di propulsione, di velocità sulla terra. Nel 2005 il Team Bar-Onda, da quest'anno squadra ufficiale Honda, In attesa di tentare nuovamente il record con condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli, nel maggio del 2005 la Bar-Onda ha effettuato dei test sulla lunga pista dell'aeroporto militare di Mojave nel deserto californiano. Adottando una pinna fissa verticale al posto del tradizionale alettone posteriore, la Bar-Onda, sempre guidata da Allen Van Der Merve, ha raggiunto in un passaggio la velocità record di 415 km all'ora, che la renderebbe la Formula 1 più veloce di sempre. Diciamo la renderebbe perché i record di velocità sono omologabili solo sul lago Salato, e quindi il record, siglato venerdì 4 novembre 2005, resta solo una dimostrazione di ciò che potrebbe essere in grado di fare, nel 2006, questa monoposto a Bonneville, nello Utah. Il primo passo verso il record vero è già stato fatto. Il primo passo verso il recorde è già stato fatto. Riuscire ad essere la Formula 1 più veloce di sempre. È l'obiettivo che si è posto il Team Bar-Onda, 74 km all'ora, fatti segnale da Juan Pablo Montoya con la McLaren Mercedes durante i test del Gran Premio di Formula 1 a Monza. Le cattive condizioni atmosferiche non hanno consentito al pilota sudafricano Alan Van Den Merve di ottenere il primato che si era prefisso il Team anglo-nipponico. La monoposto allestita per questo record non differiva in nessun particolare da quella normalmente utilizzata nei Gran Premi, volendo il Team ottenere l'eventuale record con una Formula 1 conforme al regolamento. La Bar-Onda era soltanto equipaggiata con un paracadute frenante azionabile dal pilota in caso di pericolo. Riuscire ad essere la Formula 1 più veloce di sempre. È l'obiettivo che si è posto il Team Bar-Onda, che ha allestito un programma particolare con una sua normale monoposto di Formula 1. Per poter raggiungere il primato, la squadra che ha seguito questo originale progetto si è trasferita sul lago Salato a Bonnery, negli Stati Uniti, palcoscenico ideale da molti anni dei record, con qualsiasi tipo di propulsione, di velocità sulla terra. Nel 2005 il Team Bar-Onda, da quest'anno squadra ufficiale Honda, non è però riuscito nell'impresa di battere i 300 secondi.